Ciao ragazzi, buon pomeriggio dalle pillole della botteguccia dei sigilli con il Theo Crack Apart. Questa sera volevo presentarvi un piccolo libro molto interessante che introduce a quella che sarà la puntata di giovedì 14 dicembre, quindi settimana prossima una puntata in cui ci occuperemo di un sacco di cose interessanti direttamente dall'Oriente e vi faccio vedere quella che è una piccola presentazione fotografica di quello che sarà il contenuto. Kali, Kali, Arianesimo, Yuga, Alienismo e i Thugs, la banda di strangolatori dell'India. Ci occuperemo insomma di tutto quello che è il contenuto originario, l'ambientazione, l'origine degli dèi ari, la loro provenienza possibilmente aliena, la descrizione di quelle che sono le età di evoluzione dell'umanità, dette Yuga e noi ci troviamo nell'ultima di quest'età che è l'età teoricamente dell'oscurità, il Kali Yuga, le relazioni con quelle che sono stati gli studi del nazismo esoterico e un sacco di altre curiosità e ovviamente anche la trattazione della setta dei Thugs che dai film ai libri a racconti di tipo mitico sono una setta estremamente famosa, insomma gli strangolatori o qualcuno dice i tagliatori di testa in maniera in realtà imprecisa, ma insomma è uno degli argomenti che andremo a trattare nella serata di giovedì 14 dicembre alla botteguccia dei sigilli, questo è per la prima volta, facciamo insomma una preview in questa maniera, ma ne vale la pena e il libro che vi volevo presentare questa sera, così magari qualcuno di voi può andare a cercarsi, è un libro molto molto interessante, eccolo qua, si chiama i Thugs, gli strangolatori sacri dell'India, adesso vi metto come al solito la preview anche qua sotto con il nostro banner, i Thugs, gli strangolatori sacri dell'India, James L. Sliman, l'uni editrice, un libro che racconta per lo più il declino, quello che viene definita come l'abbattimento ecco della setta da parte di regolari e irregolari dell'esercito britannico, ma che probabilmente non racconta esattamente tutto quello che è la realtà ai giorni nostri dei Thugs, noi cercheremo di approfondire qualche cosina in più, ecco la dotteguccia dei sigilli, così come le origini, così come tutto ciò che riguarda le possibili origini aliene di quelli che vengono chiamati dei, dell'induismo e poi di tutte le principali religioni orientali e anche vedremo in parte delle religioni occidentali. Una pillola molto breve quindi per presentarvi questo libro e per rimandarvi alla prossima settimana, mi raccomando aggiungete ai vostri preferiti il canale di Ground Zero Channel, andate a curiosare, aggiungete anche il canale di Crack Apart sia in Instagram che su YouTube per le mie opere, ma anche per vedere quelli che saranno i contenuti che pian piano sposterò dalla mia parte e che dire, io come al solito vi mando un bacio, vi ringrazio per l'attenzione dalle pillole della botteguccia, ci vediamo alla prossima pillola e alla botteguccia testici, giovedì 14 dicembre.